Sì, grazie, grazie Paolo per la linea. C'è un dato statistico da sottolineare riguardo il trend esterno del Pescara che in trasferta nel 2019 ha vinto solo in una circostanza, sempre in Calabria, a Crotone, lo scorso 18 febbraio, 2-0 a reti di Monachello e Campagnaro. Naturalmente bisogna invertire la tendenza, ci proverà la squadra di Zauri che tra poco ascolteremo in conferenza stampa domani ore 15, stadio San Vito Marulla di Cosenza. L'11 di Braglia ancora a secco di vittorie, un punto nelle ultime due partite, ma attenzione prima della sosta, non avrebbe meritato di perdere in casa contro la Salernitana. Tra l'altro ha colpito nel finale due clamorosi legni con Bruccini e Carretta. Indisponibili nel Pescara, Balzano, Crecco, Bruno, Celli, Marafini, non ce la fa neanche Davide e Bettella. Sono due i dubbi, in teoria per l'assenza di Balzano si giocano il posto Ciofani, che sembrerebbe, usiamo il condizionale, quanto mai di rigore in vantaggio su Zappa, ma attenzione c'è anche Vittorini che è pronto per tornare dal primo minuto, ha giocato il classe 97 molto bene tra l'altro nella trasferta di Coppa Italia di Empoli. L'altro dubbio potrebbe essere legato ad una delle tre maglie di centrocampo, si giocano il posto, Macin e Castanos davanti, tutto confermato con Di Grazia e Galano a supporto di Marco Tuminello. Andiamo ad ascoltare Zauri, intanto sul mercato testè consegnato agli archivi, sul mancato arrivo di una punta in grado di far compiere alla squadra il salto di qualità, ebbene è stato molto chiaro il tecnico Biancazzurro, i giocatori proposti non sono di certo migliori dei nostri. Sentiamo Zauri. Quando parlavamo di mercato la mia richiesta era quella di completare la squadra con giocatori importanti, non volevamo prendere tanto per prendere, quello che è stato proposto erano giocatori non più forti dei nostri, per cui mi sono tenuto strettissimo i nostri e non ci siamo voluti ingolfare, passatemi il termine con i giocatori che magari non avrebbero fatto la differenza. Con questi giocatori che abbiamo possiamo fare più cose, soprattutto in mezzo al campo abbiamo aumentato sia la qualità che il numero. Anche per sfruttare due delle tre punte centrali che hai in organico, quindi è ipotizzabile, non so se è a breve, il cambio del sistema di gioco. Dovesse servire lo possiamo fare, abbiamo gli uomini adatti per poter fare più cose, magari anche l'avversario in base a quello che incontreremo. Possiamo giocare col tre quarti, possiamo giocare con due punte, possiamo fare tante cose, possiamo giocare 5-3-2, 4-3-1-2, per parlare un po' di numeri. Il piano tattico rimane ambizioso, cioè fare la gara nella metà campo avversaria? Quando è possibile sì, abbiamo la qualità per poterlo fare, è chiaro che c'è anche l'avversario e di volta in volta magari proveremo a fare anche altre cose, nel senso decidere magari di stare più bassi o di stare molto più alti. Non esiste una partita sola, è chiaro che il momento, l'atteggiamento dell'avversario ci farà fare più cose. Noi dobbiamo essere bravi e preparati ad essere pronti a sviluppare più cose all'interno della partita stessa. Senti, in sintesi, parlando della partita di domani, contro un avversario che riparte molto bene in velocità, con gente come Carretta, che conosciamo bene, lo stesso Baez, vietato concedere la profondità, questo è il primo compito. Sì, sono due modi, o stare altissimi o stare bassissimi. È chiaro che la difficoltà maggiore, per assurdo, è quando la parla abbiamo noi, dove magari saremo un po' aperti in fase di costruzione, dovremmo essere molto bravi a stare sulle preventive, a stare insomma belli ordinati in campo. La fase di mezzo non ci deve essere, quindi o stiamo alti o stiamo bassi. Mi aspetto un Cosenza che chiaramente ha voglia di fare punti, chiaramente è partito male, perdendo in casa con la Sanità una partita strana, chiaramente non meritava di perdere, mi aspetto uno stadio caldo, una squadra che ha voglia subito di rifarsi. Una squadra molto organizzata, che ha gamba davanti, ha molta velocità, quindi mi aspetto una squadra che ha voglia di fare punti, una squadra che gioca, si è completata in alcuni reparti, quindi è una squadra molto difficile da affrontare. Così dunque Luciano Zauri alla vigilia del match di Cosenza. È tutto dal poggio degli olivi. La linea può tornare a te Paolo.